signori buongiorno ma quante volte mi sono sentito dire in vita mia ma guarda questa casa non ci basta più abbiamo bisogno di spazio abbiamo bisogno di una camera quando viene la mamma di una camera in più per i bambini io vorrei avere una bella lavanderia quel locale da dedicare a me e a me piacerebbe avere una una bella rimessa dove avere la mia officina una zona per fare la palestra una zona per gli ospiti così non possiamo mai aspettare nessuno oppure quante volte mi sono sentito dire ma cavolo questa città è diventata indivibile andiamo in campagna costruiamo una casa nuova e di case nuove signori ne stiamo vendendo ultimamente veramente molte ma c'è c'è un rovescio della medaglia le case nuove oggi e non per cose che sono derivanti dagli impresari molte volte mi dicono eh ma vedi gli impresari se ne approfittano assolutamente no è il sistema che sta fermando l'azienda italia e ha fatto schizzare i prezzi dei materiali alle stelle perché si sta facendo di tutto ma questa è un'altra storia per fermare l'azienda italia quindi le case nuove hanno preso dei prezzi che sono veramente importanti poi allora molti pensano vabbè come la facciamo la facciamo in tradizionale col tetto dopo falda no facciamola in uno stile cubismo magari risparmiamo qualcosa no perché i costi dell'edilizia oggi purtroppo sono quelli ma tutto questo ve lo dico perché perché abbiamo dei gioielli e dove ce l'abbiamo nel biellese che è un territorio straordinario ad esempio nel comune di candelo guardate questa villa e perché vi parlo di questa villa perché qui abbiamo metrature a profusione sul piano abitativo di questa villa che tra l'altro uno stile architettonico che nonostante abbi i suoi anni è particolare perché con pochi pochi ritocchi questa casa potrebbe sposare dal cubismo alla tradizionale ma stiamo parlando di una casa che sul piano a 180 metri di piano cantinato a 180 metri abbiamo 100 metri di piano sotto tetto dove si potrebbe creare un'unità addirittura indipendente il tutto che posa su un parco di 1500 metri quadrati addirittura completamente piantumato con l'impianto di innaffiamento goccia tutta una zona di ingresso per le altre per le auto e parcheggio che è pavimentata in porfido che pavimentate in pietra è una casa straordinaria e poi vi dico il prezzo questa è la casa guardate solo a livello di giardino guardate la ricchezza di questo giardino voi pensate che oggi piantumare solitamente i lotti dove vengono collocate le ville nuove sono 700 millimetri solo a livello di giardinaggio andare a piantumare un'area così contenuta ha dei costi che sono molto importanti perché tutto è lievitato qui guardate avete 1500 metri quadrati in pieno sole in una via fiorita è una zona tranquillissima di candero vedete non è autobloccante vedete tutta sta parte qui poi vi farò vedere una parte dietro queste pietra è porfido con cui è stata pavimentata tutta la zona di ingresso tutte le uole tutte le piante che vedete le piante ridosso della casa la parte messa sulla recinzione sono tutte con l'impianto di innaffiamento automatico computerizzato guardate la ricchezza di questo giardino andiamo a vedere un attimino questa casa questa è la parte dietro vedete il porfido arriva gira attorno alla casa vedrete qui c'è una rimessa che è una piazza d'armi in più avete parcheggio esterno per 5 6 7 10 macchine non c'è veramente problema di spazio e questa casa ha una particolarità ne ha molte una partiamo di qua non ha una fessura di assestamento in nessun luogo è una casa che è stata veramente costruita molto bene l'altra particolarità di questa casa adesso vi porto vedere gli interni vedete come anche il livello di manutenzione è una casa che se volete centrate è che una casa che non è mai stata abitata perché questa casa qua era di proprietà di due insegnanti avevano una casa al mare hanno costruito questa villa molto bella ma hanno praticamente sempre vissuto al mare quindi è una casa che non ha usura per essere stata vissuta partiamo dal dal salone questo è proprio salone perché vi ripeto abbiamo 180 metri quadrati di piano abitativo 180 metri quadrati di piano cantinato e 100 metri sottotetto che potreste sfruttare salone cammino aperto fiamma libera qui un lavoro che andrebbe fatto sicuramente mettere un inserto in maniera di avere un cammino a lenta combustione che sia alimentato a pelle tua legna ma questo andrebbe fatto così non c'è dispersione di calore i pavimenti del salone delle camere da letto dei locali a disimpegno sono tutti pavimenti che vanno mantenuti guardate la bellezza di questo salone che è veramente salone perché ha delle dimensioni che sono enormi dietro questa parete qui c'è la cucina la cucina come i bagni a piastrelle che andavano di moda 30 anni fa quindi bisognerebbe ripiastrellare ma supponiamo pure di rifare i bagni di rifare la cucina io questa parete la toglierei per cui avreste una zona di ingresso come si poteva fare una volta viste le metrature molto importante che va poi a disimpegnare cucina e salone in un ambiente unico poi abbiamo quattro camere da letto sul piano due bagni e un ripostiglio metrature che sono veramente oggi sono con i costi che ha lì dell'edilizia oggi non si può pensare di poter costruire delle cose così guardate solo l'ingresso con la doppia porta cristallo molato tutti i serramenti signori interni ed esterni sono tutti i serramenti in legno massello un'altra cosa importante da vedere in questo scatto guardate i pavimenti sono posati all'isca di pesce ed è marmo e marmo di una bellezza non andrebbe neanche lucidato ma pensando di fare un ripristino di questa casa e levigare questi pavimenti come i pavimenti in legno e riportarli a nuovo sono pavimenti di una bellezza oggi posare un marmo così con lo spessore che ha creando calcolate che andate a spendere 200 euro metro quadrato anche i pavimenti in legno che sono tutti inchiodati su magatelli questa è la cucina che vi dicevo vedete la cucina non ha segni di usura addirittura i pavimenti possono avere un suo perché perché stiamo ritornando su queste su questi disegni però pensiamo pure di rifare la cucina che potremmo abbinare il salone creare una zona giorno veramente bellissima la zona notte è dalla parte della foto che è apparsa adesso vedete che il marmo prosegue nel disimpegno delle camere tutti i serramenti perimetrali sono serramenti in massello di legno con vetro a camera che io non li toccherei perché poi è vero adesso vediamo i nostri politicanti con tutti i casini questi uno vale uno che non sono capace a fare mi fa mi fa però vediamo cosa capita se c'è la possibilità di nuovo di usufruire veramente dei dei bonus ma altrimenti questi serramenti li potete mantenere perché hanno vetrate a camera sono serramenti che vanno benissimo le murature di questo edificio sono talmente potenti che vi dicevo non c'è una fessura di assestamento è una casa dove fare un piccolo ritocco all'interno e andarci a vivere e io questi serramenti non li cambierei signori ma ve lo dico perché 47 anni che faccio questo mestiere sono nato in un cantiere e tutte le cose che sentiamo oggi anche questi serramenti ultra performanti che non ti lasciano passare un filo d'aria nella casa guardate che la salute delle case comunque il riciclo dell'aria all'interno e se avete un minimo di spifferi è solo la salute della casa mi capita alle volte di andare a vedere delle case mi dicono guarda ho cambiato i serramenti non ho neanche più acceso riscaldamento vieni a vedere casa mia vado a vedere queste case io entro in queste case è un senso di malessere profondo perché l'aria che c'è lì dentro e stantia perché gli odori perché tutto rimane lì una casa che traspira e che ha e che ha anche due o tre gradi meno di temperatura ma quella è la salute dell'edificio questa casa qua non ha segni di umidità da nessuna parte venitela a vedere non credete a quello che vi dico qui abbiamo le questa è la zona notte tra l'altro le porte interne le porte interne che sono in legno massello poi abbiamo il video andate a vedere il video con tutti i cristalli immolati io non toccherei quelle porte per andare a mettere le porte oggi mettiamo delle porte sono belle 200 300 400 euro una porta così oggi se tu la vuoi far fare io penso che 1500 euro non ti bastano io li manterrei queste porte le camere poi hanno tutte delle dimensioni che sono delle piazze d'anni abbiamo quattro camere da letto una più grande dell'altra guardate che dimensioni di camere cose che non si possono più fare i bagni mi ripeto non c'è segno di usura perché la casa non è mai stata abitata abbiamo due bagni ma questo mettiamolo proprio nel credo i bagni dobbiamo svecchiare per cui tireremo via tutto quello che va fatto poi possiamo fare i preventivi anche noi e ve li facciamo due bagni nuovi con doccia sfioro vasca idromassaggio quello che volete scala interna che collega il sottotetto dove vi ho detto che abbiamo 100 metri quadrati che potrebbero essere indipendenti transitando dall'accesso che abbiamo il piano seminterrato che per un lato è completamente al piano terreno e porta direttamente sui mansarda per cui potremmo avere 100 metri quadrati di mansarda che sono indipendenti caldaia appena cambiata abbiamo una caldaia nuova a condensazione alimentata a gas avete visto la casa comunque delle canne fumarie per cui potremmo avere diverse fonti di riscaldamento siamo nel piano semi interrato vedete che siamo filo campagna guardate le dimensioni di questa rimessa allora voi che abitate nelle grandi città non sapete dove metter la bici dove poverete la dovete portare in casa smontargli le ruote la macchina dove la parcheggio qui nel garage vi stanno tre quattro poi vi faccio vedere vi potrebbero stare otto macchine nel garage e ne potete mettere una decina fuori nel vostro terreno quindi arrivate sotto casa ma è un garage che vi consente finalmente di crearvi la vostra ufficina la parte per le bici per le moto per il gommone quello che volete e più ricovero di tutte le auto che volete tra l'altro piano semi interrato tutto completamente intonacato e pavimentato come fosse al civile e per le signore che ogni altro sento dire io vorrei avere la mia lavanderia guardate che lavanderia guardate che lavanderia questo è un alloggio che poi come vedete luce diretta perché qua siamo il piano campagna guardate la la luce e gli spazi che avete per creare una lavanderia ma volete una palestra guardate il locale palestra tanto questo è stato appena pavimentato qui potreste collocarvi la vostra palestra l'ingresso di cui vi parlavo prima il piano terreno questo è un ingresso al piano terreno che porta direttamente se volete in mansarda per cui transitando da quella porta si va nell'alloggio in mansarda senza entrare nei 180 metri che compongono l'alloggio al piano terreno dietro alla rimessa abbiamo ancora tutto questo locale vi ho detto che nella rimessa potreste ricoverare otto auto c'è da togliere una parete e usufruire ancora di tutto questo spazio questa casa ha degli spazi che sono qualche cosa di inarrivabile vi vi ripeto un attimino signori i metri perché se pensate di fare una casa nuova prendete in esame questa casa che è un'opportunità in ripetibile prima di fare una casa nuova voi calcolate che qui avete 180 metri quadrati di abitativo 180 metri quadrati di piano cantinato 100 metri di sottotetto è a sottotetto è a nudo tetto bisogna fargli quello che dovete fargli però avete quella possibilità lì 1500 metri di giardino riccamente piantumato avete visto guardate il pavé guardate tutta questa parte qui che porta dietro alle rimesse è tutto porfido signori e quanto vendiamo questa casa la vendiamo 299 mila euro ora io sfido chiunque a far a farsi fare un preventivo di una casa su due livelli ma non di 180 metri quadrati per piano fatela di 100 metri quadrati per piano quindi 100 di piano semi interrato 100 di piano abitativo e mi dite quanto andate a spendere e guardate che non è colpa degli impresari ma di tutto un sistema che sta fermando l'azienda italia il prezzo signori questa è la ciliegina sulla torta il prezzo signori è trattabile voi venite a vedere la casa ci sediamo un attimo facciamo due righe di conti e questo prezzo lo possiamo anche trattare questa è un'opportunità fantastica la casa ve lo dico da muratore la casa è costruita nel migliore dei modi è come diceva mio papà quando costruivamo una casa mi diceva tu devi imparare a costruire alla regola d'arte questa è una casa che è veramente stata costruita la regola d'arte primo elemento da vedere è che soprattutto la casa non ha punti di umidità punti termici nessuna parte ma non ha una fessura di assestamento in nessun luogo ed è una casa che ha più che ha più di 30 anni allora per chi non conosce il belleso uno potrebbe dire sì sì vabbè ma per venderla a questo prezzo oltretutto è trattabile con tutto quello che ha ma chissà in che zona orrenda deve essere questa casa sarà qualche cosa come cocomaro saranno queste zone signori il biellese per chi non conosce il biellese fermatevi perché il biellese è un territorio straordinario questo è il quello che appare adesso signori è parte del biellese che è qualche cosa di straordinario fermati un attimo se non conosci il biellese importante ne va della tua ne va della tua vita dei tuoi investimenti tu vai a vedere che cos'è santuario mariano d'europa dove studiati la storia prima del santuario lì c'era un presidio celtico ma nel biellese siamo ricchi di tante di quelle cose vai a vedere il lago di viverone le camminate che tu puoi fare nelle nostre montagne che sono dei paradisi rosazza signori io dicevo sempre rosazza è stata definita la rene le chateau italiana se non conosci la storia di rene le chateau googola spegni questi canali del mainstream criminali googola vai a vedere cosa è capitato e cosa sta capitando a rene le chateau rosazza non solo è stata definita la rene le chateau italiana ma la nostra sindaco di rosazza che è la mia carissima amica e bravissima del mastro molto brava ha fatto il gemellaggio tra rene le chateau e rosazza perché rosazza nel biellese che ricco di mistero rosazza è il fulcro del mistero rosazza e la rene le chateau italiana perditi per rosazza vai a vedere una meraviglia poi se vuoi mi chiami ti faccio ti do degli spunti candelo dove abbiamo visto la villa dove abbiamo visto questa villa queste candelo allora tu google a vai a vedere nel centro di candelo il ricetto di candelo borgo fortificato dell'anno mille perfettamente mantenuto è qualcosa di straordinario il parco naturale della bessa malbiellese sempre nel comune di candelo parco naturale della baraggia il parco più bello d'italia il parco della burcina che abbiamo a pollone vai a vedere che cos'è l'oasi zegna le vie ferrate del biellese che sono straordinarie ma soprattutto tu con la bicicletta nel biellese puoi andare a pedalare in paradisi paradisi come questo ieri parlavo con una famiglia di milano anzi due famiglie che hanno comperato villa maria da noi in valle e questo signore mi diceva guarda silvio vedevo le tue presentazioni incuriosito vengo a vedere sto biellese ma noi siamo le persone più felici del mondo ma noi abbiamo scoperto un angolo di mondo che dopo aver girato tutta l'italia pensavamo fosse impossibile ma com'è che una perla così non la conosce ancora nessuno perché il biellese signori è un territorio straordinario abbiamo creato una community iscriviti alla nostra community e vedrai alcune cose per chi non ci conosce signori su tutti questi canali a breve siamo e saremo anche su truth è di di tram per tanti motivi e comunque a breve saremo anche lì comunque su tutti questi canali ci trovate come abitabiella agenzia immobiliare come biellese territorio straordinario che la nostra community e questo è il nostro sito vai sul nostro sito iscriviti www.abitabiella.it perché lì abbiamo dedicato tutto al mondo dei video di ogni casa anche di questa potrei vedere il video a parte che linkeremo sotto il video già su questa parte qua inoltre se vuoi sapere chi sono cosa faccio fin che ce n'è vai digita silvio zupichiati su google su tutto quello che vuoi sono io ho 62 anni e da 47 anni vivo nel settore immobiliare ci ho anche scritto un libro che è questo qui che vedi alle mie spalle aspetta che vedo dove eccolo qua questo qui diario di un uomo libero come comprare casa e vivere di rendita questo è il nostro ufficio in centro biella tutti i nostri numeri abbiamo un parcheggio privato entrate con la macchina parcheggiate da noi e come mi ripeto sempre da 37 anni faccio l'agente immobiliare i dieci anni prima lavoravo in cantiere con mio padre costruivo penso di poter dire la mia sul settore immobiliare signori il biellese è un territorio straordinario per voi che vivete nelle grandi città vedete queste sono le nostre palestre a cielo libero che non costano assolutamente nulla e oggi con soli 299 mila euro trattabili l'ho sottolineato mettiti mettiti nel cuore questo sono trattabili tu puoi comprare una villa su 1500 metri quadrati di terreno una villa che con pochi ritocchi può diventare qualche cosa di ultramoderno dove degli spazi infiniti dove i tuoi figli i tuoi ospiti ai genitori vuoi una palestra vuoi crearti una bella rimessa da tutto quello che puoi farti una piscina dietro la villa messa completamente a sud abbiamo un'area verde dove ci starebbe un campo da tennis quello che vuoi 1500 metri quadrati signori è un'opportunità veramente veramente molto importante iscrivetevi al nostro canale youtube signori e se questa presentazione ti è piaciuta spollicciona all'insù che a noi fa molto piacere così ogni volta che abbiamo delle opportunità di investimento nel biellese che è un territorio straordinario tu sei completamente e tempestivamente avvisato signori per biellese territorio straordinario noi di abita sempre in movimento con gioia lo sto facendo da 47 anni ora mio figlio che lavora qui con me che è molto più bravo di me ed è veramente una gioia poter lavorare e sentire delle persone come i clienti che ho sentito ieri di milano che mi dicono silvio ma dio ti benedica noi abbiamo comparato nel biellese che non conoscevamo tempo fa ho venduto una villa bellissima a un architetto della bocconi e questa ragazza mi dice ma cavolo io biella immaginavo che fosse risaie e mobilifici ma non immaginavo fosse una cosa così bella adesso questa signora ragazza per me perché avrà 50 anni con questa signora mi dice ma se sto lavorando in parte da casa quindi riesco a fare due tre giorni a casa se riesco poi a mettere il venerdì e lunedì io vivo in un paradiso poi vado a milano e non vedo l'ora di tornare via da milano e venire in questo paradiso che è il biellese che è un territorio straordinario alla prossima presentazione ciao fanciulli